Buonasera e ben ritrovati a Vita ad Atleta, quest'oggi parliamo di canottaggio e per farlo ho scelto un amico ma anche uno tra i più grandi campioni che l'Italia in questo momento può vantare, Nicola Mornati. Ciao Nicola, è un piacere, ti ringrazio, sei un affezionato di Livigno, parlavamo a microfoni spenti, ci veni da tantissimi anni sia in fase di raduno nazionale che anche per diletto, sei di lecco quindi sei anche abbastanza vicino. Sì, ho sempre sciato in gioventù anche con gli amici qui e poi il mio destino si è legato a Livigno grazie allo sporco e pratico del canottaggio. Quando nel 2005 la nazionale italiana canottaggio ha avuto l'opportunità di sfruttare questo bellissimo bacino in quota e in sinergia con il paese, siamo stati ospitati e da lì è partito un cammino bellissimo perché credo che l'esperienza dell'allenamento in quota possa definirsi unica. E oggi appunto siamo qui per questo e siamo ancora qui a sfruttare tutto quello che la quota ci può dare e questo bellissimo paese ci può offrire. Livigno che in determinate annate, magari ci ricorderai tu quali, vi ha portato davvero a fortuna, a fortuna tra virgolette, perché i risultati si costruiscono con medaglie mondiali. Sì, devo dire che le medaglie più belle sono proprio quelle che ci siamo legati al collo dopo periodi trascorsi proprio qui. Ricordo con particolare affetto la medaglia del 2005 nell'otto con Timoniere, una medaglia storica perché l'Italia è raramente andata sul podio con un'imbarcazione così difficile che l'otto con Timoniere. E proprio quell'anno, grazie a una preparazione secondo me ottima e a un affiattamento speciale che questa barca aveva, abbiamo agguantato una medaglia d'argento stupenda alle spalle dei campioni olimpici americani dopo una gara altrettanto straordinaria. In barca poi anche con mio fratello che è quasi nove anni più grande di me, quindi ancora al cuore il pensiero spesso ritorna là. Certo, dando un sguardo al tuo palmaressa vedo cinque medaglie mondiali ottenute sulle varie imbarcazioni, quindi sei un atleta poliedrico, uno che si presta a qualsiasi situazione. Sì, mi sono sempre cimentato in tutto e mi è piaciuto anche un po' cambiare nel tempo. Sì, sono medagliato nel 2 senza, nel 4 senza e nell'otto. In particolare ho raggiunto la prima medaglia nel 2002 nel 4 senza, proprio fu la prima gara insieme a mio fratello. Poi una parentesi nell'otto dove abbiamo agguantato due medaglie d'argento ancora. Può essere riproposto il 4 senza nell'anno preolimpico, prima delle Olimpiadi di Pechino nel 2008, dove anche lì siamo stati medaglie d'argento. E per chiudere nel 2011 sono stato medaglia di bronzo nel 2 senza, quindi le ho provate tutte. Quali di queste medaglie la senti più tua? Forse l'hai accenato quella con il tuo fratello. Sì, quella con il mio fratello che nel 2005 ma anche nel 2002 perché fu la prima per me in barca olimpica, ha 21 anni, in un ruolo abbastanza importante come quello del prodiere, con davanti tre persone di altissima esperienza che era appunto mio fratello, Lorenzo Carboncini, Raffaello Leonardo, tutti e tre ragazzi medagliati olimpici. Quindi c'era anche un carico emotivo legato alla prestazione alto perché desideravo non deludere le loro aspettative e io ero proprio il bambino di questa imbarcazione. E fu una gara bella perché tutti e tre gli equipaggi, quindi la Gran Bretagna, la Germania e noi, scendiamo sotto il record del mondo in tre. Quindi una gara velocissima e fu una medaglia che ricordo con particolare gioia. Che cosa stabilisce un record del mondo? Torno indietro, ovvio la prestazione, però c'è un bacino, c'è un'acqua più veloce? Sì, innanzitutto lo stabilisce una grandissima preparazione fisica e atletica. Non accade mai che dei record del mondo cadano per fortuna su imbarcazioni che non hanno mai rispecchiato né in allenamento né poi in gara, anche nelle fasi eliminatorie. E' una velocità di base alta, quindi il presupposto principale è la preparazione. Poi sicuramente il bacino e le condizioni atmosferiche, visto che siamo uno sport che è influenzato almeno per l'80% dalle condizioni atmosferiche. Quindi un vento a favore che in anglosassoni chiamano proprio tailwind, ti aiuta a sfruttare il bacino, quindi hai più velocità di barca. Un'acqua con una temperatura più alta ti permette un galleggiamento più elevato dell'imbarcazione, quindi attriti minori di velocità maggiore, come del resto può essere l'acqua salata. Della parte tecnica ne abbiamo già accennato in precedenza durante l'intervista che abbiamo effettuato con il tuo compagno di imbarcazione, Vincenzo Capelli. Però diamo una rivisitata velocemente. Attualmente tu sei sull'equipaggio di due, un due senza. Ricordiamola velocemente l'imbarcazione. Magari, sì, se ci descrivi la specialità. Sì, la specialità, come dice il nome stesso, è composta da due evocatori. Senza è perché siamo senza colui che guida la barca, che è il con. Quindi il timoniere che solitamente, appunto per la denominazione della barca due con, è sdraiato in prua all'imbarcazione e grazie all'ausilio di un'asticella ai quali sono legati due cavi d'acciaio, porta la direzione tramite appunto un timoncino che è collocato sotto la deriva della barca. Noi questa persona non l'abbiamo a bordo. Questa fu una specialità storica per l'Italia perché vide i fratelli a Bagnali col timoniere Peppiniello di Capua confermarsi per ben due volte sul tetto del mondo alle Olimpiadi. Purtroppo questa specialità è stata esclusa dal programma olimpico per dare più accesso alle donne, per la farita dei sessi, per poter aggiungere due categorie che sono i pesi leggeri. E quindi il due senza è rimasta la specialità a due vogatori con un remo solo che parteciperà alle Olimpiadi ed è inserita nel programma olimpico. Quindi il remo con Vincenzo in questa imbarcazione, Vincenzo è il mio capovoga, quindi è colui che sta davanti a me, ha un remo e per la precisione lui rema sulla parte destra della barca, io dietro di lui remo sulla parte sinistra della barca. E come dicevo prima, a questo punto mancherebbe chi porta la direzione, ecco, colui che porta la direzione in questo caso in gara sono io che grazie a un timoncino che è montato sulla mia pedaliera posso muovere il piede destro e decidere dove portare l'imbarcazione. Ovviamente devo cercare di muoverlo il meno possibile e farlo andare il più dritto possibile per evitare gli attriti, gli sbandamenti e anche le oscillazioni laterali che un'imbarcazione potrebbe avere. Più noi riusciamo ad andare dritti, ecco, meno decimi e meno secondi lasciamo sul campo. Certo, ne approfitto Nicolò della tua presenza per inoltrarci un po' nel mondo del peppiniello di capua di turno, quello del, come si chiama, il con, il con. Sì. Niente, che fa? Eh, che fa? È molto sottovalutato in Italia come ruolo, forse perché appunto le nostre tradizioni del con non sono forti come nei paesi anglosassoni, basti pensare all'America o all'Inghilterra, dove c'è una presenza massiva di equipaggi, soprattutto universitari, dove danno la possibilità a questi con, a questi timonieri, di sviluppare le loro capacità tecniche, tattiche, strategiche, perché sono dei veri e propri allenatori in barca. Da noi, ecco, come ti dicevo prima, è insolito avere delle ammiraglie, quindi delle barche a otto vogatori sul territorio italiano, in quantità enormi, in quantità grandi come negli altri paesi, anche perché il materiale umano da noi rispetto agli altri paesi scarseggia. Il tessuto universitario è attivo oggi in Italia, però non porta i numeri che portano questi paesi, che guidano il movimento universitario mondiale. Quindi è un po', lasciami passare il termine, sottovalutato e sottostimato e sottoconsiderato questo ruolo. È un ruolo però decisivo, perché il con può farti, e quindi il timoniere, può farti cambiare totalmente l'approccio a una gara, l'approccio a un allenamento, poiché lui è davvero un allenatore in barca. Lui deve avere, innanzitutto, le conoscenze tecniche, quindi lui deve sapere esattamente, anche riprodurre il gesto che un vogatore fa. Nella sua testa deve essere chiaro qual è il ciclo di voga e quali sono i punti di forza e di debolezza che un canottiere, in quel momento, sta mettendo in atto nella vogata. Quindi deve essere tempestivo nel richiamare. E poi, come ti dicevo prima, è anche un tattico, uno stratega, perché fondamentalmente il canottiere devi pensare, è un atleta che per sei minuti e mezzo di gara porta il suo corpo ai massimi livelli sia di consumo d'ossigeno che di battito cardiaco, di produzione di acido lattico. Quindi la lucidità viene mancando durante il percorso. Il timoniere è di per sé lucido, perché non ha che ha uno sforzo fisico, lui deve portare a direzione con le mani, però ha una visione chiara, oggettiva, lucida di quello che sta accadendo in gara. Ed è per questo che è un tattico, perché lui può chiamarti un attacco, può dirti in che posizione sei, evitando che il vogatore si giri, sprecando tempo e energie per valutare che cosa deve fare in quel momento. Quindi è un ruolo fondamentale. È leader nell'imbarcazione? Assolutamente sì. La regola vale che quando il timoniere parla tutti stanno zitti. Poi fuori dalla barca si può anche discutere. E qualche schiaffetto, se anche il timoniere è giovane, è anche giusto darlo. Però sì, durante gli allenamenti, durante le competizioni, l'unico che ha voce in capitolo è lui. Perché poi è durante la gara l'unica voce che si ascolta. Quindi uno scricciolo a confronto con dei giganti, perché ricordiamolo, deve avere delle misure standard. Sì, non tanto antropometriche di lunghezza, ma di peso. Perché lui deve rientrare nei 55 kg. Quindi tutto quello che è eccedente se lo smazza l'equipaggio e quindi sono a fare il lavoro. Invece tutto ciò che è in difetto, quindi lui dovesse pesare 53 kg, la Commissione Internazionale lo porta sulla bilancia e quindi lo zavorra di 2 kg per raggiungimento dei 55. Perché tutti i timonieri, tutti gli equipaggi devono pesare 55. Niccolò, veniamo a te. Una nuova vita, una nuova carriera agonistica. Dallo scorso anno, se non ricordo male? Da gennaio. Da gennaio, tu dopo le Olimpiadi di Londra decidesti di interrompere l'attività agonistica per dedicarti? Al lavoro. Sì, al lavoro perché dopo 15 anni di agonismo e di competizione ad alto livello, avevo deciso di mettere un po' a frutto anche i miei studi in economia, il mio master in business administration, avevo voglia di toccare un po' più con mano la vita reale, ecco. Di chiudere questa bellissima parentesi e buttarmi un po' nel mondo del lavoro. Sono stati due anni molto belli, ho avuto la possibilità di lavorare in una multinazionale sportiva e quindi respirare ancora l'aria di sport. Il primo anno nel retail e franchising e nel secondo anno proprio nello sport marketing. Quindi ho avuto l'occasione ecco di interfacciarmi con atleti. Un brand importante possiamo dirlo. Sì, Adidas. Adidas. Sì, un brand leader nel suo settore. Ed è stato anche per me una scommessa perché comunque passare dall'altra parte della barricata non è stato subito semplice. Poi il rapporto con gli atleti, con le federazioni, con il club mi ha fatto di nuovo respirare area di sport vero. Ed è forse anche grazie a quello che poi un po' di voglia mi è tornata. Quindi nel dicembre dell'anno scorso, il 2014, la federazione italiana Canottaggio mi ha fatto una proposta lavorativa di entrare nel loro team come responsabile marketing perché cercavano questa figura e ho deciso di voltare pagina dal punto di vista lavorativo e trasferirmi a Roma per occupare appunto questa mansione, federazione. E allo stesso tempo però mi tornava sempre più voglia di remare. Quindi ho riniziato gli allenamenti, ho riniziato gli allenamenti con Vincenzo e pian piano notavo che il mio desiderio di rimettermi in gioco cresceva, aumentava sempre di più. All'inizio ti confessero anche io scettico e pensavo tra me e me è passato troppo tempo, due anni per un canottiere ad alto livello è troppo, perdi veramente tanto di te stesso, delle tue capacità fisiologiche, del tuo allenamento, ma anche del mio fisico perché poi comunque nel momento in cui mi approcciavo a questa decisione avevo 34 anni, quindi non semplice anche da valutare. Avevi tirato un po' come si suol dire il rem in barca, ma non del tutto perché? Ma non del tutto perché il tempo, l'organizzazione del lavoro, ho avuto la fortuna di potermelo gestire a mio piacimento, quindi riuscivo anche a dedicare nel primo periodo invernale tempo all'allenamento. E notavo che con Vincenzo i primi riscronti cronometrici venivano e ti ripeto, c'eravamo quasi così in posti di andare a far risultato ai campionati italiani di fine stagione, ma all'inizio eravamo partiti molto cauti perché non sapevamo veramente dove potevamo arrivare. Il circolo canottiere agniene per il quale siamo testrati entrambi coltivava il sogno di avere un'imbarcazione totalmente agniene alle Olimpiadi e quindi le strade si sono sempre più incrociate. Il mio desiderio di tornare è cresciuto sempre di più finché è arrivata una convocazione nazionale quest'estate per provare a qualificare un lotto con Timoniere, quella imbarcazione tanto difficile di cui ti parlavo prima. È partita attraverso una Coppa del Mondo di Lucerna in Svizzera, dove con Vincenzo siamo stati chiamati e abbiamo fatto questa gara e durante questa gara ho davvero riassaporato le sensazioni che un po' mi mancavano. Mi è tornata tanta voglia di competere, tanta voglia di rimettermi in gioco e quindi ho accettato di buon grado il fatto di essere convocato durante l'estate al raduno olimpico. E poi è avvenuta questa selezione in due senza, perché anche il due senza era una barca da qualificare alle Olimpiadi. E con Vincenzo un giorno di quest'estate ci è stata data la possibilità di dimostrare quanto valevamo. Siamo stati schierati contro altri 5-2 senza italiani e la regola era chi vinceva avanti, chi vinceva il mondiale. Abbiamo vinto, abbiamo fatto registrare un ottimo crono e quindi il commissario tecnico ha detto benissimo che siete guadagnati la possibilità di competere ai campionati del mondo. I campionati del mondo in Francia a settembre dove dovevamo rientrare negli 11 per accedere ai giochi olimpici di Rio de Janeiro dell'anno prossimo e siamo giunti quinti in finale assoluta. Se adesso ripercorre indietro quello che mi hai chiesto prima al mio rinizio mi sembra quasi impossibile in così pochi mesi aver fatto tutto ciò, però sono contento del cammino fatto. Quinti ha quanto dal podio? Dal podio 4 secondi, dalla Serbia che ha preso la medaglia di bronzo. Noi sapevamo che in base alle semifinali che avremmo potuto lottare massimo per un quarto posto. I serbi eravamo coscienti del fatto che fossero più veloci di noi. Avevamo deciso la tattica di partire forte, di vedere quanto potevamo rimanere coi primi per anche assaporare la velocità dei leader che sono i neozelandesi, campioni del mondo in carica, campioni olimpici. Per 600 metri è durata, è andata perfetta la nostra tattica. Poi ovviamente in campo sono scese le forze nettamente superiori degli altri equipaggi, almeno dei primi tre. Infatti siamo stati riassorbiti verso i mille metri dove ancora eravamo intorno alla terza, quarta posizione. E poi non ce l'abbiamo fatta a mantenere la quarta posizione, siamo finiti quinti. Però ti ripeto, alla luce di come era partito il tutto, avrei messo la firma per un risultato del genere. Nicolò, pensi che vi manchi a questo punto? Mancano solamente nove mesi. Infatti, dico, mese di agosto, in cui a Rio si celebreranno i giochi estivi olimpici. Che cosa vi manca di più? Il piano tecnico o fisico rispetto ai vostri diretti avversari? Sì, secondo me manca molto del lato fisico, appunto per il mio rientro così ravvicinato a una competizione olimpica, poiché parteciperei all'Olimpiadi, diciamo, con un anno e mezzo di preparazione che è realmente poco. Anche dobbiamo migliorare sotto il punto di vista tecnico, però se riusciamo a colmare questo gap fisiologico e quindi di allenamento, secondo me siamo ben avanti, più di metà dell'opera è fatta. Poi tecnico, non partiamo da una cattiva base, siamo già un equipaggio abbastanza consolidato e con una buona tecnica e affiatamento. Forse ci sarà da finalizzare nell'ultimo momento della stagione l'aspetto tecnico. Adesso dobbiamo pensare proprio all'aspetto fisico. E ce la state mettendo veramente tutta qui a Livigno. Ho il piacere ogni tanto di incrociarvi un po' in pista da fondo, un po' anche in palestra, in piscina, in acqua, insomma state veramente facendo di tutte. Quante ore al giorno vi allenate? Calcolavamo proprio l'altro giorno che ovviamente con le perdite di tempo, le docce, gli spostamenti ci va tutta la giornata. I nostri allenamenti sono tre al giorno, poiché siamo sulla media di 16 allenamenti a settimana. Possiamo parlare di quattro ore effettive al giorno, proprio effettivo di lavoro fisiologico, quindi è parecchio. Ci alziamo presto la mattina, il primo allenamento è alle 8 e chiudiamo con quello delle 6 della sera. Passiamo da, alterniamo fase di preparazione in palestra di pesi, a momenti sugli sci, momenti in piscina, sul vogatore. C'è da divertirsi perché è anche da sbizzarrirsi. Infatti l'allenatore è contento di poter variare le metodologie di allenamento e non ci fa sicuramente annoiare. È una componente che ci aiuta tanto. Il ringraziamento va sicuramente a Luca Moretti, presidente dell'APT, che ci ha aperto le porte di Acqua Grande, a tutto lo staff di Acqua Grande, che sono dei ragazzi fantastici e disponibili. Spesso volentieri non fanno anche caso quando sbattiamo i bilancieri per terra e facciamo anche un po' di rumore, o quei nostri vocatori, i nostri ventole, copriamo il suono della musica. Sì, direi che abbiamo trovato un'ottima ospitalità e sembra veramente di sentirsi a casa. Beh, ci fa molto piacere, grazie di cuore. Tornerete, terminato il raduno in quota di vino, tornerete a Roma? Torneremo a Roma, sì, torneremo a Roma, dove prosegue la nostra preparazione. Adesso andremo in acqua, recuperando un po' le ore di voga, che qui abbiamo dovuto trascurare per ovvie ragioni, anche se se avessimo saputo che avessi fatto un clima così mite, ci saremmo portati sicuramente la barca. Però sai, il tempo è sempre difficile da prevedere. E sì, alterneremo momenti in acqua, sia sul Tevere che in acque ferme, bacini come Sabaudia, Piediluco o Castel Gandolfo. Acqua, barca, acqua e barca? Oppure no, ancora tante sedute in palestra? Sì, la palestra è quotidiana per noi. Che poi siano una o due sedute, quello dipende un po' dalla periodizzazione degli allenamenti. Però sicuramente una seduta in palestra c'è sempre. Sei sedute settimanali le facciamo. E poi tanti chilometri in barca, anche quella quotidiana. E con l'arrivo della bella stagione, quindi alla primavera, ci saranno doppie sedute in acqua. A quando il ritorno alle competizioni? La prima competizione è a marzo. Sono competizioni nazionali, primi test valutativi. Quindi sarà un tutti contro tutti. Chi veste la maglia azzurra si sfiderà nelle tre specialità, il 2 senza, il 4 senza e l'8, in questa competizione che è chiamata Trio 2016. Poi le prime gare di Coppa del Mondo sono ad aprile. Ci saranno tre prove. La prima gara di Coppa del Mondo è Varese. La seconda gara di Coppa del Mondo è Lucerna in Svizzera. E la terza è Poznan in Polonia. Per arrivare praticamente all'inizio luglio, dove poi mancherà l'ultimo mese di preparazione, prima delle Olimpia di agosto. Certo. Ci accennavi Nicolò che la vostra imbarcazione è qualificata per Rio, ma ovviamente non l'equipaggio. Dovrete fare dei trials. Eh sì, è proprio così. Queste gare di Coppa del Mondo fungeranno da prove? Sì, fungerà guarda un po' tutta la stagione, perché ovviamente noi ci dobbiamo confermare. È vero che siamo l'equipaggio che ha vinto la selezione quest'anno, è vero che siamo l'equipaggio che è arrivato quinto al mondiale, però il bello anche di questo sport è che nessuno ti regala niente. Quindi non è che sul nostro carrello della nostra imbarcazione c'è scritto il nostro nome. E ti dico che è il bello perché serve anche a mantenere molto alta l'adrenalina, la concentrazione e il focus sull'obiettivo. Certo. Quindi sì, passeremo tra le gare nazionali, che saranno indicative più che valutative, perché poi è anche paradossale pensare che un equipaggio sia già pronto a livello olimpico alla prima gara di marzo. Quindi ci saranno sicuramente degli equipaggi molto in forma, noi cercheremo di esserlo, però non sarà sicuramente la nostra priorità quella gara. Poi conquistata comunque la fiducia, come è nata quest'anno, del commissario tecnico, andremo in Coppa del Mondo e lì si vedrà a che punto siamo. Puntate, dite incrociate, al podio olimpico. Ah sì, certo. Punti sempre alto, poi se sbagli di poco ti va bene. Sì, non vorrei essere presuntuoso nel dirlo, però quando fai un investimento così grosso su di te, su questo sport, su questa passione che hai, e sei a questi livelli, è ovvio che ti alleni per quella medaglia, ti alleni per l'oro olimpico. Conscio poi del fatto che ci sono magari avversari più forti di te, però l'obiettivo rimane sempre molto alto. Questa sarebbe la mia quarta olimpiade. Esco da un quarto posto a Londra con tanto amare in bocca. Non lotterai mai per un quarto posto, lotto per una medaglia. Certo, certo. Niccolò, hai vogato sin da piccolo, oppure praticavi altri sport? Ricordiamolo, hai davanti un fratello, ce l'ha già detto, Carlo, che ti ha preceduto, tu seguivi le sue orme, ma forse prima praticavi altre specialità? Sì, ho praticato un po' di sci da piccolo. Vengo da Mandello dell'Ario, quindi per noi era anche facile raggiungere i piani di Bobbio, la Valtorta, il Cainallo, quindi località scistica abbastanza vicina. Mi ricordo nel doposcuola mia mamma mi accompagnava, praticavo sci, ho praticato l'atletica leggera qualche anno, perché ero abbastanza goffo, quindi ne ero destinato solo ai lanci, lanciavo peso, disco e martello, mi riuscivano anche abbastanza bene, però poi durante le campestre mi annoiavo troppo, perché ero lento e mi battevano tutti. E poi avendo Carlo, nove anni più grande di me, che si laureava già campione del mondo nel 1994, e poi nel 1995, ho detto perché no. Poi questo spirito familiare mi ha portato a dire ma ce l'ha fatta lui, vuoi che non ce la faccia anch'io? Quindi ti confesso che magari non sono neanche portato per questo sport. Ma insomma le 5 medaglie mondiali forse dicono il contrario, però... Sì, a volte anche la tanta dedizione, perché io noto che veramente con tanta attitudine e propensione al sacrificio, quella che io penso di avere è anche lo sforzo, può arrivare veramente lontano, anche in sport come il nostro, perché sono la testimonianza, guarda, vogatori che non raggiungono queste leve, quindi misure corporee, antropologiche così lunghe, ci sono atleti di 1,79-1,80 che competono contro di noi che siamo 2 metri e hanno medaglie olimpiche al collo. Quindi io credo che tanta testa, tanto cuore e tanta sopportazione di fatica ti porta a risultati alti. Io l'ho fatto, secondo me l'ho approcciato anche per competizione, poi sai a Mandello dell'Ario abbiamo di fronte un lago stupendo, quindi per noi praticare il canottaggio è un po' uno sport nazionale, qualsiasi ragazzino nella sua vita una volta prova a remare. Certo, certo. Una scuola guidata da Giuseppe Moioli, campione olimpico nel 48, quindi c'erano tutti gli ingredienti per provare questo sport. Ho iniziato e da lì non ho mai più smesso. In quale altro sport ti sarebbe piaciuto eccellere? Ero un portiere di calcio fortissimo, quindi mi è rimasto sempre qua al pallino. Mi piace tanto il calcio e mi è sempre piaciuto giocare a calcio. Mi sarebbe piaciuto il portiere perché mi identifico molto in quel ruolo, essere decisivo nel momento giusto. quindi tanti allenamenti per essere freddo e come piace a me è un cecchino quando serve. Il portiere di per sé spesso e volentieri viene veramente chiamato in causa poche volte durante una partita, però può essere lago della bilancia, può essere fondamentale. Certo. Poi avevo le leve lunghe, quindi giocavo già da bambino quando avevo 14-15 anni, ero quasi alto già a un metro e novanta, per me giocare in porta era semplicissimo, bastava che aprissi le braccia e già a metà del lavoro era fatto. Poi mi piaceva davvero tanto, però ti ripeto, poi ogni cosa viene da sé, quindi evidentemente era anche un po' nel mio DNA di continuare questa tradizione di famiglia ed è andata bene così e sono contento di essere dove sono, anche perché poi grazie al canottaggio ho avuto tantissime opportunità di vita, che forse magari il calcio non me l'avrebbe potuto dare, perché penso sempre che in giro per il mondo trovi sempre un circolo di canottieri pronto a offrirti una birra, una barca con cui remare, un letto su cui dormire e anche quando ho avuto un'esperienza in Australia ho proprio notato quello, che un canottiere, un rovoer, come lo chiamano loro, è una persona sempre ben accetta, è una persona sempre che è un piacere passarci del tempo. Beh, è una bella filosofia di vita, ma è lo sport anche che vi porta ad essere così solari, così aperti, così modesti anche, perché veramente forse è la fatica che vi porta ad avere questo carattere. Niccolò, nel tempo libero poco credo, che fai? Beh, nel tempo libero non ho poco, perché comunque ricopro sempre questo ruolo in federazione, quindi le mie ore di tempo libero tra un riposino e la sera è sempre attaccato al computer, a una mail, con qualche potenziale azienda che desideri sponsorizzare il nostro sport e anzi oggi è una bellissima occasione anche per fare un appello a chi desidera avvicinarsi a uno sport pulito e dai valori sicuramente cristallini, come è il canottaggio, perché sì, fino al mio mandato, il mio ruolo, si esaurisce diciamo con le Olimpiadi di Rio de Janeiro, con questo contratto di collaborazione con la federazione, quindi sono impegnato anche su questo fronte. E poi ecco, nei pochissimi ritagli di tempo che ho, mi piace la lettura, però sono veramente pochi. Apro e chiudo velocemente una parentesi, hai accenato ad uno sport cristallino e trasparente, la domanda è d'obbligo, credi che il canottaggio sia lontano dall'uso, dall'abuso, del doping? Lo credo fortemente, sì, soprattutto in Italia, perché ho il piacere di conoscere e di interagire quotidianamente con tutti gli atleti, in particolare la nazionale italiana. È una cosa, sembra scontata da dirlo, ma lo noteresti nei loro occhi e vedi troppi occhi legati alla passione, alla voglia di essere puliti, e alla voglia di dimostrare coi propri mezzi dove si può arrivare. E poi ho detto, in termini commerciali, ma guarda, non ne varrebbe veramente la candela, perché è proprio così, c'è un interesse economico talmente basso e un costo sarebbe talmente alto che, ma chi te lo fa fare di poi rischiare la vita per così poco? E poi non è proprio un qualcosa che contraddistingue il nostro sport, anzi, viene stigmatizzato ed è giusto puntare il dito su chi mai potesse anche avere lontanamente l'idea di ricorrere a qualche mezzo per migliorarsi o per raggiungere dei risultati che non ha nelle sue corde. Quindi no al doping sicuramente, questo è l'appello, e secondo me il canottaggio, fortunatamente oggi, può dirsi di essere un ottimo testimonial di questa campagna. Secondo te chi sbaglia paga e non dovrebbe essere più avvicinato allo sport? Sì, corretto, perché lo sportivo è un modello di vita e lo sportivo deve essere un esempio, non solo per se stesso, ma anche per la società, per i giovani, perché l'esempio che uno sportivo può dare è l'esempio più bello, quello non delle parole, dei qua, 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 ma quello dei fatti. E la nostra società ha bisogno di fatti e non parole. Quindi è corretto condannarlo e sì, credo che sia giusto soprattutto dare l'esempio e non permettere, sì, di poter risbagliare e poter magari ripassare un messaggio errato. Esattamente. Il tuo sogno nel cassetto e abbiamo finito. Il mio sogno nel cassetto non te lo posso dire perché sei nel cassetto. Apriamolo o non si può. Se apriamo il cassetto diciamo la medaglia olimpica. Certo. Di cuore, un grossissimo bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Grazie Niccolò Mornati. Grazie a voi. Ed è tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione e vi rimando a mercoledì prossimo. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.